Il sistema stereo giradischi TT1065E Trevi è un prodotto dall'affascinante design vintage, caratterizzato da una serie di funzioni innovative. Vediamole nel dettaglio. È un lettore di dischi in vinile da 33 e 45 giri, ma è anche radio, lettore CD e file MP3 da SD card e da chiavetta USB. La funzione encoding permette di registrare direttamente da giradischi e CD in formato MP3 sul supporto USB o SD card. È dotato di sintonizzatore analogico FM stereo e di display LCD alfanumerico con retroilluminazione blu. Con Trevi TT1065 potrai ascoltare la tua musica preferita, sia in cuffia che attraverso gli speaker integrati nel giradischi. Tutte le funzioni sono gestibili tramite telecomando. È disponibile in due versioni di colore, bianco e nero. Buon ascolto con TT1065E Trevi.